Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Inizialmente volevo parlare di un'altra vicenda che non menzionerò perché purtroppo sta diventando una questione legale e visto il momento non me la sento più di parlarne su YouTube Quell'argomento è assolutamente messo da parte probabilmente per sempre La prima cosa che vorrei invece dire riguardo questo video è quella di ringraziare coloro i quali si sono adoperati per darmi un suggerimento per quello che riguarderà i prossimi video Dico riguarderà non a caso perché visto l'andamento del canale visto che almeno per quest'estate chi può fa qualcosa in più io no perché sono senza il montascale non vi ho detto niente perché vi ho chiesto se per caso voleste farmi domande sul mio trasferimento diverse dalla città ma nessuno mi ha fatto domande quindi a questo punto siccome come stavo dicendo poco fa si può fare qualcosa in più rispetto a qualche mese fa chi può sta uscendo chi può se ne sta andando al mare in vacanza lo volete voi e questo anno anticiperemo la pausa da YouTube e probabilmente durerà anche di più perché questo mi voglio piangere addosso però onestamente un conto è dire faccio 200-300 visualizzazioni non prendo niente da YouTube ma quelle 200-300 visualizzazioni sono fatte da persone che mi seguono sempre che aspettano i miei video qui non facciamo le 200-300 visualizzazioni non passano sempre le stesse persone nonostante io vi stia invitando ogni volta a seguirmi sui social dove pubblico sempre i nuovi video a cercare di attivare la campanella per vedere se vi funziona e quant'altro io non vedo mai le stesse persone e quindi mi sono detto visto che siete chi più e chi meno tutti impegnati con le vostre cose tutti impegnati con le vostre cose familiari e quant'altro quest'anno andiamo in pausa io non vorrei dirvi ma penso anche per un paio di mesi forse vedremo vedremo voglio vedere un po' come andranno i canali degli altri sinceramente ripeto non ho mai pensato di voler fare di YouTube il mio primo lavoro però nemmeno mi va di parlare da solo e in questo periodo proprio non si visualizza ne stavo parlando proprio con qualcuno di voi in privato su whatsapp oggi quindi onestamente anche se non guadagno niente però devo pensare alle idee trovare il silenzio è il tempo di girare il video come in questo momento devo montare per 50-70 visualizzazioni non mi va quindi in buona sostanza mi auguro buone vacanze mi auguro che rimarrete iscritti a settembre continuerete a guardare i miei video agosto-settembre quando sarà non chiudo il canale assolutamente semplicemente ci sentiremo in tempi meno vacanzieri cercate di divertirvi anche per me porca puttana cercate di divertirvi anche per me io mi mando un bacio non editerò più di tanto questo video se non togliendo i miei strafalcioni e noi ci vediamo dopo l'estate ciao ciao